L'Aquila finisce il suo campionato battendo 5-0 un Lanciano arrivato al Gran Sasso a Concia con 17 uomini indistinta e che a causa delle defezioni dei portieri titolari propone tra i pali il difensore e la barba. Passano 4 minuti e l'Aquila si porta in vantaggio traversone di Kras, Maisto si coordina per la girata e batte la barba piazzando il pallone sul palo lontano. La risposta del Lanciano è affidata al capitano Marfisi, il cui tentativo al minuto 13 non inquadra però lo specchio della porta. Marfisi che ci prova anche al 37esimo ma come nella precedente circostanza pecca di precisione e non riesce a trovare il bersaglio grosso. L'Aquila sul finire della frazione piazza un devastante 1-2. Al 41esimo i Rosso-Blu segnano il 2-0, manovra veloce pallone profondo a cercare Miciche che elude la difesa frentana si presenta solo davanti alla barba lo salta e deposita nella porta rimasta vuota. L'Aquila che cala poi anche il Tris nel primo dei due minuti di recupero. Scutti salva sulla linea dopo un tentativo di Miciche sul proseguimento dell'azione la sfera diventa buona per Pellecchia che batte la barba con un colpo da biliardo potente e preciso. Ripresa Lanciano propositivo di Benedetto si fa strada in area, la sfera arriva poi a Imperatrice che da posizione più che favorevole mette alto. Al sesto Chicarella, oggi titolare al posto di Domingo Dalmasso, è autore di un'ottima parata che sbarra la strada alla staffilata a rasoterra di Lombardi. Estremo difensore Aquilano che due minuti dopo si ripete stavolta con i piedi e nega il gol a Imperatrice. L'Aquila si riorganizza e al quarto d'ora fa poker, schema da calcio di punizione, Veneri si sgancia dalla barriera, riceve da Catalli e di giustezza batte la barba. Dieci minuti dopo arriva anche il 5-0, Maisto va via in campo aperto, poi è altruista e serve il pallone al neo entrato Irti che con il piatto in sacca alle spalle di La Barba. Al trentaseiesimo Chicarella, mani aperte, disinnesca il tentativo di Lombardi, mentre l'ultima fiammata è Aquilana con Irti che al minuto 41 calcia alto da buona posizione. Partita e stagione finiscono così da domani, spazio alla programmazione per il 2021-2022. Voglio ringraziare i tifosi, la società, il direttore, tutta la gente che mi ha dato una mano, il team manager, Paolo Ianni, tutta la gente che mi è stata vicino, che mi ha accolto benissimo da quando sono arrivato, quindi mi sono ritrovato a casa un'altra volta e non posso essere altro che felicissimo. Poi dopo il periodo che avevo passato ultimamente, ritrovarmi a lavorare all'Aquila è stata veramente una grossissima soddisfazione. Per quanto riguarda i numeri, come hai detto te parlano chiaro, se si potessi tornare indietro però non si può tornare indietro, quindi bisogna guardare avanti. Non credo che sia tutto da buttare via, non lo posso chiamare fallimento, è solo una grande delusione. Io a suo momento avevo già detto alla società che secondo me sono sulla strada giusta, non devono demordere, perché a volte il calcio non va a pari passo per come lavora la società, però devono essere convinti, insistere, perché si toglieranno delle soddisfazioni anche sul campo continuando a lavorare la società come lo sta facendo. Se la società mi chiama è un piacere mettermi a sedere con la società dell'Aquila a calcio, però io oggi non ho parlato con nessuno, quindi io diciamo che sono sul mercato. Al di là del terzino importa che non importa, perché non deve essere mai un alibi questo, era importante proteggere la nostra dignità di giocatori, quindi al di là di tutto c'è sempre una faccia e comunque anche una maglia da difendere, quindi non esiste che poi si va in campo sbragandosi, si va in campo facendo il meglio possibile. Oggi credo che il meglio possibile era questo. È stato un anno veramente difficile sotto tanti punti di vista, il Covid che ci ha falcidiato già dalla prima partita col Chieti e le vicissitudini societali non sono state facili da assorbire. Questo è indubbio, è indetto, non lo possiamo nascondere. È chiaro che ci ha tolto serenità, ci ha tolto tranquillità e la squadra si è compattata su se stessa e ha cercato di venirne fuori proprio per dignità e per proteggere la propria passione e la propria professione.